Viviamo in una società in cui abbiamo perso un po' l'eleganza, il bon ton, anche il portamento, il modo di essere, anche il modo di essere noi stessi all'interno della società. E fare un ballo come questo, quindi avere la possibilità di debuttare, emergere in una situazione diversa rispetto alla classica passeggiata, alla classica serata in discoteca, è un modo per mettersi in gioco, per conoscere anche noi stessi in una nuova veste, in una veste più elegante, in una società anche diversa, che per una notte ci fa sentire magico, quasi delle principesse. Ha questo significato nel 2015 il ballo delle debuttanti per le giovani baresi e non solo, che tra le braccia degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza volteggeranno sabato nella sala degli affreschi del Circolo Unione. Per noi è un debutto Bari perché è la prima volta averlo organizzato nel sud Italia, dal momento in cui è stato sempre organizzato nel nord e senza considerare appunto l'emblema che è Vienna. A ballare il valser in questo gran galà ci sarà anche una debuttante speciale, una ragazza down e una partecipazione dall'alto valore simbolico. Perché non avremmo mai pensato e credo che nessuno avrebbe mai pensato che una nostra ragazza potesse collocarsi a pieno titolo in un contesto così particolare in cui prevale l'eleganza, il bon ton, la leggiadria. Credo che ci aiuti a superare un pregiudizio importante e questo ha un grandissimo valore.